Offside Pisa, le voci dei protagonisti. Il presidente Nerazzurro Carlo Battini per parlare di questa nuova avventura. Il settore giovanile Nerazzurro, Targato Bianco Forno, Targato Geu, ma anche Targato AC Pisa. Insomma, le due entità sono differenti ma uguali, è allo stesso modo. Lottano tutte per lo stesso obiettivo, diciamo. Noi siamo la società Pisa che ha un po' più di esperienza in questo settore. Seppure noi non l'avevamo mai per vari motivi lanciato a dovere. Quindi, avendo trovato dei partner così come il signor Lenzi e il signor Lami, posso proprio dire che il nostro è un connubio perfetto. E quindi io penso che con l'impegno che ci hanno messo questi due industriali qui, che hanno le attività fornacette, visto che a un certo punto hanno fatto degli impianti favolosi, che è difficile riscontrarli in Toscana, io penso anche per noi non emigrare sempre con le nostre squadre da un campo a un altro. Almeno anche noi abbiamo la nostra casa, anche se condivisa, però condivisa con persone serie, con persone che credano nel progetto, con persone che hanno la voglia di far bene. E quindi io sono ben contrario di poter emergere insieme a loro.